di Genova, nonostante le notizie positive che arrivano dal governo con il decreto che dovrebbe salvare la produzione di il va a Taranto. A rischio la tenuta sociale, a rischio la tenuta proprio del paese, perché Genova è sempre stato un modello e non a caso il segretario del Partito Democratico è venuto a chiudere a Genova, la sala chiamata del Porto, la sua campagna per il primo turno delle primarie, perché Genova è il simbolo ed è una città in crisi perché è in crisi il paese, quindi bisogna ripartire dal lavoro e mettere al centro queste problematiche. C'è totale assenza nel nostro paese di una politica industriale, quello che stiamo vivendo oggi a Genova per quel che riguarda l'ILVA, per quel che riguarda Finmeccanica e Ansaldo sono proprio lo specchio di quel che dobbiamo cercare di mettere in campo come proposta politica per governare il paese. Senta, c'è una proposta invece, anzi da prima c'è stato un commento da parte del Premier Mario Monti che dice il sistema sanitario nazionale non si regge più, si è organizzato così poi una parziale retromarcia, ma in qualche modo queste parole hanno trovato d'accordo l'assessore regionale alla sanità Montaldo. Voi come le prendete? Cioè più privati nella sanità sono possibili? Perché di fatto è questo, insomma, se non si regge così il sistema vuol dire che entra qualcun altro che un privato. Io, è normale che così non regga il sistema nel momento in cui vengono attuati dei tagli insostenibili. Quel che sorprende è che l'assessore di competenza, l'assessore Montaldo, che dovrebbe essere il primo a protestare per la situazione di disagio nel gestire la partita della sanità, che è uno dei temi caldi che vanno a toccare direttamente i cittadini e le fasce più deboli, invece di lamentarsi sostiene la tesi di Monti. Quindi quel che è successo prima per la scuola nel momento in cui viene definanziata e poi si dice la scuola pubblica non funziona più, sta avvenendo anche nel settore della sanità, si toglie ossigeno, la sanità va in affanno e poi si dice che il sistema non regge. Probabilmente andrebbe finanziato o andrebbe costruito un percorso affinché la sanità si possa riorganizzare, ma con tempi leggermente più lunghi. È vero che ci sono sempre state delle diseconomie, però bisogna anche costruire politiche che portino a una deospedalizzazione, perché questo qua è il tema, bisogna andare sul territorio, dare servizi territoriali, allora a quel punto si può veramente riorganizzare. Fatta così sinceramente diventa ingestibile ed è un peccato che un fiore all'occhiello che è sempre stato riconosciuto all'Italia come welfare venga messo in gravissima discussione. Tra poco torneremo a parlare ancora di sanità, parleremo anche di politica evidentemente, perché ancora prima delle... ...e dei valori è passato da voi. A braccia aperte l'avete accolto? L'abbiamo accolto a braccia aperte, come ricordava lei, aumentiamo dal punto di vista numerico, ma aumentiamo soprattutto per quelle che sono le qualità che esprime il consigliere Quaglini, nonché il presidente della commissione sanità. Quindi con lui ho condiviso e abbiamo condiviso insieme ai consiglieri della sinistra un percorso istituzionale, abbiamo presentato tre leggi assieme, quella sul reddito minimo garantito, quella sul garante delle carceri e quella sull'utilizzo dei farmaci derivati dalla cannabis. Quindi nonché tante battaglie sulla sanità, per quel che riguarda l'area metropolitana, sull'ospedale del Ponente e sul superare il progetto della nuova galliera, Stefano Quaglini è sempre stato vicino a noi, alla posizione di SEL, alla posizione della federazione a sinistra. Quindi oggi si concretizza un percorso in cui vede SEL come partito che catalizza quel che deve essere una nuova sinistra di governo. Quaglini non è mai stato sempre vicino alle vostre posizioni e va bene, tanto che infatti è passato da voi, ma sempre distante spesso dalle posizioni invece dall'assessore Montaldo. Dovrà rimanere presidente intanto nella commissione sanità Quaglini o farebbe bene a dimettersi visto che ha cambiato un partito? Io credo che in una logica di maggioranza tutti i partiti e tutti i consiglieri regionali di maggioranza condividono che Stefano Quaglini è la figura più autorevole che possa esprimere la coalizione centrosinistra come presidente della commissione sanità. Stefano Quaglini è sempre stato in contraposizione alle politiche messe in campo da Montaldo, non è che Matteo Rossi è sempre stato schiacciato sulle posizioni che... Ma adesso siete in due però... Siamo in due, siamo anche più di due. Cerchiamo di riequilibrare quel piano di riorganizzazione della rete spedaliere che ha proposto Montaldo che deve essere ancora votato in consiglio regionale. Quali gli ostacoli di questa votazione del piano di Montaldo? Perché comunque Quaglini aveva già deciso alcuni emendamenti da presentare, voi anche immagino se non dovessero essere accolti? Se non dovessero essere accolti si fa dura perché credo che sarebbe sbagliato come ha sottolineato più volte il presidente Burlando andare in consiglio regionale senza aver trovato la quadratura in maggioranza perché a quel punto si aprirebbe la porta a una logica emendativa proposta giustamente dalla minoranza in cui ogni consigliere potrebbe convergere e quindi mettere in difficoltà la maggioranza stessa. Noi proporremo per l'ennesima volta degli emendamenti in maggioranza, speriamo che questi vengano accolti e noi siamo ben consapevoli delle difficoltà in cui versano le casse, versano la sanità, il definanziamento che è stato messo in campo dal governo Monti, però crediamo che soprattutto il ponente genovese non possa subire l'ennesimo taglio che va a penalizzare sempre una parte della città. Inevitabile parlare anche del peso sia sul tema della sanità ma più in generale in consiglio regionale che se l'acquisisce proprio con l'arrivo di Quaini perché adesso siete in due. Dovranno cambiare anche i rapporti di forza all'interno della maggioranza secondo lei rispetto ad oggi? Ma io non credo che debbano cambiare oggi i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Quel che è sempre stato definito un modello da prendere ad esempio anche a livello nazionale, il modello Liguria, il modello burlando a nostra vita è sempre stato un modello imperfetto, quindi il giudizio non cambia, SEL è l'unico partito, ripeto partito, non rappresentato in giunta, cambia poco se oggi SEL, il gruppo consigliare è composto non più da uno ma da due consiglieri. Il nostro atteggiamento non cambierà assolutamente, noi entreremo sempre nel merito delle questioni, in una logica propositiva sta al presidente, siccome lui è l'allenatore, cercare di costruire i presupposti affinché la squadra, lo spogliatoio non entri in crisi. Io sono un uomo di sport, ho giocato a calcio e mi sono anche rimesso oggi a giocare a calcio, sono un uomo di spogliatoio però credo che ci siano sempre delle responsabilità da parte e dei giocatori ed allenatori nel momento in cui si rompesse il giocattolo. Lei sa, avendo giocato a calcio, che un giocatore che sta fuori, che però si sente forte, che il mister non lo fa giocare, scalpita, voi scalpitate? Sì, ma scalpita, si deve continuare ad allenare con dedizione e quel che non accetta il giocatore nel momento in cui venisse discriminato, nel momento in cui l'allenatore iniziasse a trattare in maniera diversa, facendo figli e figliastri e non prendendo in considerazione l'attenzione e la dedizione che un giocatore ha in allenamento. Quindi la posizione di Selle è sempre stata discriminata da inizio della legislatura. Speriamo che in questi prossimi due anni e mezzo l'allenatore si renda conto dell'errore che ha commesso sin dal principio. Quindi in qualche modo ancora per entrare in giunta, insomma, voi non fate nessun tipo di richiesta ufficiale in questo momento? Noi non la faremo oggi, non la faremo domani. Continueremo a cercare di costruire questo campo dei progressisti in maniera responsabile. A noi interessano i contenuti, interessa parlare di sanità, di lavoro, di occupazione, di sviluppo sostenibile. Vorremmo anche parlarne in giunta, ma credo che anche parlarne semplicemente nel consenso del Consiglio regionale, dove veramente le forze politiche possono fare il punto, sia comunque importante. Vedremo. Parliamo un po' delle alleanze, perché Casini, secondo lei a livello nazionale, Bersani di fatto apre le porte, Renzi le chiude, convinto dall'autosufficienza del Partito Democratico. Secondo lei i voti di Vendola, ammesso che si possano controllare quelle delle primarie che sono andate a Vendola, dove dovrebbero andare? Cosa consiglierebbe agli elettori di SEL di fare queste primarie nel ballottaggio? Io l'ho già consigliato qualche giorno fa, ho fatto dichiarazione di voto per Bersani, perché sono convinto che sia la figura più vicina a noi dal punto di vista politico che mette al centro il tema del lavoro e del diritto dei lavoratori, per come lo intendiamo noi. Sulla questione dell'apertura all'Udc, Renzi dice che con lui sarebbero chiudere porte ai moderati, perché probabilmente, anzi certamente, lui rappresenta già il campo dei moderati e della figura a noi più lontana e per chi ha osannato le politiche di Marchionne, per chi le ha prese come modello di sviluppo delle relazioni industriali, il modello Marchionne, credo che sicuramente pochi elettori che fanno riferimento alla sinistra possano cadere nella trappola che con capacità Renzi è riuscito a mettere in campo, ossia per passare l'innovatore, quando invece mette in risalto politiche che sono, secondo noi, liberiste e conservatrici. Grazie a Matteo Rossi, capogruppo di SEL, per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. In diretta su Radio Baboleo News 92.9 e Telenord, canale 13 del Digitale Terrestre, da Simone Gallotti, una buona giornata a tutti, adesso l'attualità con le Breaking News.